ok vediamo a me mentre questa è la seconda parte dividerò un po' per te blanco a la città m xd il papà qualcuno la legge di cristalline albergo da me rica io c'ho Alessio dammi i tuoi diamanti facciamo sharpness si ma la vado a fa dopo un attimo stavo di il verde rica sharpness eh lo so infatti stavo di il verde e poi ho pensato ah no sharpness sarebbe lì saprata no è tutta un'altra cosa quello che hai detto stai parlando tipo vabbè niente voglio fare l'esempio eh permette se vengono in base a 2 voglio molto più tempo per spaccare i blocchi in letto no hai lasciato c'è scritto sharpness word con la spada dammi i diamanti che aumenta il danno della spada eh mi sembrano 8 io ce l'ho 4 dammi dai Ale veloce Alezio ho comprato un'altra volta i set trap per sicurezza dica che Alessio ma quanti materiali c'hai? eh tu ganna quanti materiali c'hai? eh tu ganna quanti materiali c'hai? non mi chiamo Mattè mi chiamo Gioca mi chiamo Gioca corro 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 ok allora mettete qua dove ero io eh tu sai che ti puoi farlo davanti eh? guarda guarda no è scappato c'era nitro nel cielo raga mi so nel cielo che hai fatto? Matteo non ho più sharpness si che ce l'hai no allora vuol essere che ci hai baggato la spada fidati no ce l'hai perchè ce l'avevamo tutti c'era un'isola nel cielo ma io lo sto scherzando hai capito ciao amici lassù vabbè voi non ne credete no sto cascato con 3 gold ma non ne fiega 3 gold no i rossi i rossi a ben diamante io si stanno attaccando i blu e allora che ci prega venga mi serve una tnt una tnt un piccone e vi farò vedere io che cosa faccio ma l'armatura ce l'ho eh no no l'armatura prima 3 gold ok mi sono fatto l'arco allora vorrei un bel piccone che qua ci sono i potenziamenti che sono molto meglio tutto in pietra i gold non ce l'ho aspetta no ne prendo altri qua non ci sono ci sono i diamanti ma l'armatura non ce l'ho ancora non ce l'avemo 5 diamanti oh io l'ho messi 4 nella cesta io ce l'ho a 3 quindi vengo a fare potenziamento a me lo siamo più sicuri ragazzi sto bufo dell'esimo ma non ce l'ho a far charge sto bufo ragazzi ci serve il piccone e andiamo attaccare il blu ragazzi ci serve il piccone e andiamo attaccare il blu che devo farlo devo volare magari sei un dp se stanno unì se stanno unì non se ok ok stanno ammazzata stanno ammazzata per effetto ragazzi io non sto in base ragazzi io non mi hanno visto no ci sta sto rosso se non c'era sto rosso ragazzi i rossi avevano perso il letto Matteo aspettami scorda te Matteo aspettami Matteo stanno in base del rosso dove stai? ho spaccato il letto ai rossi e ho ammazzato anche un rosso stanno a venire non è cascato non è cascato Matteo ho ammazzato un rosso grande ammazzate oddio l'è che sta succede? ho ammazzato un altro blu raga non è rimasto il rosso che lo stavo a seguire il blu però blu se ti fermi io ti ammazzo lo stesso vieni qui eccolo c'ha undici cuori io ammazzo il blu prima tranquillo sto finito addio blu no aspetta ancora non è morto è morto mo no ho finito le frecce ho finito le frecce ma che ci stanno i blu di ruote di ruote corro 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 ci sto io ci sto io ci sto io ok vabbè vabbè dobbiamo massacrare il rosso ok raga ho eliminato il team rosso e vabbè non lo posso ammazzare eh ma che non lo posso ammazzare va prendiamo due prendiamo le invisibili potion raga 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 andamo andamo da gun non ti preoccupare non ti preoccupare fai le mini io vado in basso di loro tanto pozione di pozione invisibilità no sono eccoli 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 perchè non fai i fai esplode sono tutti i fucili raga c'è la pozione di oh c'è la pozione di invisibilità quando mi hanno visto questa qua spaccato ok oh raga i blu hanno perso il letto no sono morto sto ho distrutto io ho distrutto tutti i letti tra nel giallo che non potevamo distruggere perchè non c'era raga tutti i letti li ho distrutti io ma sono morto vabbè raga 2 su 2 ma non ci posso credere 2 su 2 raga facciamo così no no vabbè 2 su 2 exit to hub e ci salutiamo che è? 2 su 2 ma vabbè raga siamo troppo 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 forti forti troppo non registro più aspetta vieni qui dove ci siamo salutati dove ci siamo incontrati prima ganna manchi tu è registrato ma te? aspetta stiamo salutando mo ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto in compagnia di adezio e ganna iscrivete e attivate la campanellina ho anche due regali da aprire anzi sai che c'è? andiamo a aprire i regali e poi ci salutiamo non troverò mai niente però vabbè niente il primo niente vediamo il secondo niente ma come si apre? di cliccare il regalo 81 token vediamo l'ultimo niente ok riproviamo tutto cliccate per un altro regalo io ce l'ho 2 vai ok ora li apri allora il mio ultimo regalo io ce l'ho 2 aspetta aspetta guarda io guarda che cosa trovo io trovo sempre pallina gialla eh io pure io guarda che cosa trovo guarda guarda pallina gialla guarda 42 token 33 cosa devi cliccare visto? ah a destra? c'è scritto gift ce l'hai? sì sì devi cliccare il regalo questo al centro no niente vabbè regalo spero che questo video vi sia piaciuto se vi è piaciuto vabbè lasciateci copri piano no 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 e niente ci di ciao gente niente